Dopo tante voci di corridoio, ecco che Hugh Jackman torna a vestire i panni dell'incredibile Wolverine attraverso intrighi e sogno in un viaggio che dall'America lo porterà di nuovo in Oriente per ritrovare le sue origini e se stesso. Con tocchi veloci e una vena drammatica, il regista James Mangold ricostruisce uno spaccato della vita dell'eroe. Wolverine l'Immortale, nelle sale italiane, campione di incassi. Grazie